Il paracolo ricorda Enzo Giardina, decano dei giornalisti siracusani che per 50 anni ha seguito le sorti della nostra formazione e scomparso una settimana indietro. Il presidente Graziano Bonufo accompagnato dal figlio Giuseppe depone un mazzo di fiori nella sua postazione in tribuna stampa. Ciao Enzo! Il presidente Graziano Bonufi Si MAR Dyna Grazie a tutti. Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti.